Vado a presentare e lo voglio dedicare a una persona che ha creduto da me, una persona speciale, al mio produttore, Roberto Avallone, che stasera qui con me. Da marzo in poi, grazie a lui, siamo in studio per tutto il mondo. Vai, la vediamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!